Steph Curry Allora, faccio il giro lungo Gli americani Quando fanno così mi stanno proprio sui coglioni Quando fanno così mi stanno proprio sui coglioni Che fanno statistiche a qualsiasi cosa L'ho già detto, mi ripeto Eeeh, vabbè, mi ripeto Mi ripeto, mi sto ripetendo Fanno statistiche a qualsiasi cosa E adesso c'è la statistica che Steph Curry è il giocatore con Almeno 32 anni Che ha fatto tre partite da 50 punti Nella stagione L'unico nella storia L'unico nella storia Sopra i 32 anni C'è ne ha 33 Vabbè, c'è, ok Ma che statistica è 32 anni? C'è Ma dovevano farla C'è, dovevano dirmelo per forza? C'è l'unico che ha dopo 32 anni 14 giorni dalla sua nascita E sei ore Bravo Cioè, se devono essere così Così millimetrici Ma Io allora sono capace Anch'io di tirare fuori 100.000 statistiche Qualunque cosa succeda Però, vabbè A parte questo Steph Curry Sta avendo una stagione Da Steph Curry Da Steph Curry Assurda Ma da Steph Curry Che la gente Non si ricordava Perché è stato assente Più di un anno E come tu dicevi Inizio stagione E come dicevo Io all'inizio stagione Soprattutto dopo aver visto Le prime partite In Golden State Ho detto Golden State No, no Allora Adesso Io intendevo un'altra cosa Filo Primo che iniziasse la stagione Ho detto due cose Una Che Golden State Faceva male Due Che la gente Non si ricordava Chi fosse Steph Curry Non era più abituata A difenderlo E ad averlo contro E così è ancora Ma non è che si abitueranno mai È un giocatore Che è Quando è in serata È immarcabile Perché segna davvero Qualsiasi cosa E nonostante tu lo difenda Lui segna ancora di più Capito Perché Stanotte era duplicato Ogni due per tre Quindi Poi Poi È uno di quei giocatori Instancabili Che quando non ha la palla Lui è un PG Quando non ha la palla in mano Comunque Non sta fermo Un secondo E non ce la farei mai Se Cioè questo Corre a destra A sinistra Non so Se dovessero Contare i chilometri Che fa a partita Ma ne fa più di qualun Di chiunque Altro Cioè Corre davvero È assurdo Blocchi ciechi Di qua Di là Esce Un tiro dal tre Stagione assurda Perché appunto La gente non si ricordava Chi fosse Steph Curry E quanto fosse forte E Questo va a Confermare Il fatto che lui sia Uno dei più grandi E forti Di sempre Secondo me Secondo me Steph Curry Chiuderà la sua Carriera Anche in top 10 Di sempre Non lo puoi fermare Quindi questa stagione Che era un pochino La stagione del Ah ha tornato Steph Curry Però eh Manca Clay Eh non c'è Eh Draymond No Eh Curry Curry da solo Non è mica Lebron Non riesce mica A portare Tutta la squadra Sulle spalle Eccetera Intanto Sta facendo Un lavoro Micidiale E la squadra È decima Proprio perché C'è lui E poi aggiungere una cosa Tu hai fatto Il Tiato fuori Lebron Dicendo Lebron Ce la fai Lui no Lebron il primo anno Non è che ce la stesse Facendo così tante Lebron No infatti Non ha fatto Lebron Infortunato Infortunato Sì vabbè però Difficilmente L'avrebbe fatti bene Qui lui Veramente non ha più Non ha nessuno attorno Di chi sia Decente Cioè Passatemi il termine Decente Nessuno che sia A un livello tale Da Essere effettivamente Un secondo violino E guarda La squadra in che stato è Questo per dire Che la stagione Di Steph Curry È davvero Quanta gente È in considerazione Per l'MVP Per come sta giocando Appunto andrebbe messo Assolutamente in conversazione Ti dico Ti dico un paio di statistiche Che non abbiamo detto Vabbè stanotte Ne ha fatti 53 Sei rimbalzi 4 asti Ma vabbè Quello è il meno La percentuale con cui Sta tirando Ha tirato col 58 Stanotte 58% Ha fatto un 14 su 24 E i liberi? 15 su 16 Ne ha anche sbagliato uno Addirittura 15 su 16 Si fa di squadra Ne ha sbagliato uno Per ricordarci Che lui è un essere umano Un essere umano Se no L'avrebbe messo Da quando è tornato Che si è fatto male Al Coccige? 30 di media 30 di media Cioè Noi stiamo facendo Un discorso generale Partendo comunque Da quello che ha fatto Stanotte E quello che sta facendo Ovviamente in tutta la stagione Ma soprattutto Da quando è tornato Che è sempre più bello Da vedere Io ogni volta che sento Stefano ha fatto i 30 Di qua e di là Ok bello Io me ne innamoro Comunque Cioè È proprio Ma poi è divertente Da guardare Quando gioca È proprio Il soprannome Quello della Disney La sua è una È proprio una bella Pallacanestro Quindi che ora sta facendo Stagione da record Perché appunto Oltre le sue tre partite Dalmeno 50 punti Per l'età che ha La media che sta mantenendo Il fatto che Non abbia più Il suo secondo violino Al quale ormai era Non dico dipendente Ma stra abituato Sta tirando appunto Facendo tutti quei punti Con delle percentuali Che rientrano Nel famosissimo club Del 50-40-90 Ecco E poi è anche difficile Da spiegare Quanto difficile sia Mettere in piedi Per chi Per chi non lo sapesse Sono 50% Da due punti 40% Da tre punti E 90% I tiri liberi La cosa che lo rende Veramente Diciamo Un Un riconoscimento È che Se non sbaglio I giocatori nella storia Che sono riusciti a farlo Sono i 5 O 6 E in totale Le stagioni In cui Qualcuno è riuscito a fare questo Sono tipo 13 Sono veramente Delle statistiche Che Pochissimi giocatori Nella storia Sono riusciti a fare Perché non solo Devi avere queste medie Difficilissime da avere Come percentuali Ma deve avere anche Un numero Minimo Di partite giocate Nel club Nel club dei 50-40-90 Ci stanno 3-6 8 giocatori NBA E una WNBA Allora I giocatori Di questi 8 Solamente 2 L'hanno fatto Per più stagioni I giocatori Sono Steve Nash Che l'ha fatto Per 4 3 anni E ha rischiato La cinquina Nel 2006-2007 Perché Però ha tirato Ai liberi Con l'89,9% Mamma mia Ovviamente Lo script Nella vita reale Come direbbero I videogiocatori Assolutamente Poi Bird Che l'ha fatto Due volte Mark Price Giocatore dei Cavs Dell'86 Negli anni 80 Malcolm Brogdon L'ha fatto Malcolm Brogdon Ci sarei arrivato Non mi aspettavo Di vederlo là Ma Me lo ricordo Che l'avevano Discusso un sacco Su Essere inserito O no Poi appunto Reggie Miller Dirk Eddie E Steph Che ragazzi Cioè I nomi Sono di alto livello Diciamo anche Quello femminile Che Elena delle donne Ebbè È proprio L'ultimo nome Guarda Una delle Tre donne Più premiate Della storia Della Uoma R&D Assolutamente Con Conversazione Got Assolutamente Esatto Io mi devo dire 50-40-90 Un club Molto VIP Molto esclusivo Soprattutto perché A te può capitare La giornata O la settimana O il mese Dove tiri col 50-40-90 Questi giocatori L'hanno fatto per Delle stagioni Cioè L'hanno fatto in una stagione Vabbè Comunque sta di fatto Che sarebbe una stagione Storica Quella di Steph E farlo dopo Rientrando da un infortunio Come dicevo prima Che è durato per più di un anno Poi essendosi infortunato A aver saltato delle partite Per essendosi fatto male Al Kogice Al Kogice E tutto il resto Insomma Con tutto quello che è successo Lo renderebbe Secondo me Appunto In conversazione Per essere uno dei più grandi Di sempre Già lo è Probabilmente Lo affermerebbe Un pochino A me dispiacerebbe Non vedere Golden State Ai playoff Ok Soprattutto perché Vabbè Steph I playoff Secondo me Deve esserci Un po' come Magari Lebron Cioè io Quando seguo Bene l'NBA Steph Diciamo che ci è sempre stato Tranne l'anno scorso Yes E già l'anno scorso Faceva strano E già l'anno scorso Faceva strano E non so Manca sempre Quello spettacolo Da playoff Che ti riesce a dare In generale Steph Tutti quei movimenti Piccoli Rompiscatoli Corre Che ti fa Sono belle da vedere Oggettivamente Ai playoff Anche in generale L'atmosfera è tutta un'altra E tra l'altro La classifica A Ovest È praticamente Come la vorrei io È giusta Tra negli ottavi Che secondo me Non è ancora troppo presto Per loro Per fare i playoff Ci dovrebbe essere Golden State Parlo di Memphis Che secondo me È per quanto già Sia fenomenale È presto Secondo me Non lo so A me Memphis Non riesce a convincere Mi sa di quella squadra Un po' Giovane Se te lo pensi così I loro play-in Per loro sono Un'ottima prova Per dire Ok siamo pronti Ok non siamo pronti Ah beh sì Ma si può guardare anche Sotto questo punto di vista I loro play-in Sono Sono un po' Un test È proprio un test Da missione In tutti i sei Allora la squadra La squadra forse Che ha giocato Meno partiti Di tutti Perché c'è stato Un periodo Dove non ne hanno Proprio giocate Quindi stanno ottavi Ma in realtà Potrebbero salire Come potrebbero scendere Cioè per me La classifica è perfetta Così Cioè Utah Phoenix Clippers Denver Lakers Portland Dallas Che ci sta Che faccia i play-off Anzi deve farli Perché Luca aveva bisogno Di un po' di esperienza Nei play-off E poi io vorrei vedere Golden State almeno E per me queste sarebbero Le squadre perfette Da vedere In dei play-off Di quest'anno Invece per ora Memphis è ottava Golden State decima Con Nona San Antonio Con Nona San Antonio Dobbiamo dire qualcos'altro Di Steph Ha bisogno di noi Steph Per No ha bisogno di un certo Clay Thompson Speriamo di rivederlo presto Anche lui Perché Rivedere quella coppia Sarebbe A inizio anno Quando ho sentito Che si era fatto male Ancora Io sto per mettermi A piangere Io l'ho sentito Il dolore suo L'ho sentito Vabbè Vabbè E niente Appunto Steph Questo è Questo è E Speriamo rimarrà Così Assolutamente Anche perché Io lo voglio Me lo voglio godere Ancora un bel po' Nella Lega Fino a quanto Vengoreggio A destra e sinistra In continuazione Sì Speriamo di non doverlo Perdere un altro anno No è